Le lezioni sono state una formalità, però sono state anche un momento di confronto ieri mattina per raccontare questi tre anni che sono stati non solo difficili, anche una grande scuola per noi. Ringrazio ovviamente il Presidente Gragnola per averci ospitato a Palazzo Bracci Pagani, la Fondazione è sempre molto vicina al Carnevale e adesso con questo nuovo gruppo, domani avremo il primo consiglio, quindi formalizzeremo tutte le cariche e poi iniziamo a lavorare seriamente. Quindi si parte dritti all'obiettivo che è febbraio 2023. Una bella squadra, insomma, decisa, coordinata e pronta a dare il massimo per la prossima edizione del Carnevale. Sì, una grande squadra veramente di grandi professionisti che si sono messi a disposizione della città e di questo grande evento, quindi sicuramente grande qualità e se lavorano persone di qualità non può che venire un prodotto di qualità. Ricordiamo ai telespettatori le date del Carnevale del prossimo anno. Sì, allora le date saranno 5, 12 e 19 febbraio, le tre domeniche di sfilata e però non scordiamoci che fanno i città del Carnevale, quindi cominceremo a vivere il Carnevale tutto l'anno. Questo è il nostro obiettivo. Grazie. Grazie.